Save the Children e Denel Cuore lanciano un programma di contrasto alla povertà alimentare dei minori. Si chiama La Buona Tavola e coinvolge le città di Napoli, Roma e Torino. L'innovativo programma biennale è stato presentato oggi nella sala giunta di Palazzo San Giacomo e prevede interventi di sensibilizzazione, informazione e sostegno nelle aree urbane a rischio della città, a partire da Soccavo e Pianura. Questi bambini devono sapere che è possibile alimentarsi bene senza spendere troppo e senza neanche troppo tempo da mettere in cucina. Quindi educazione alimentare, c'è uno sportello mobile che girerà in tutta la città, nei quartieri della città per fare educazione alimentare con i bambini e con le mamme e il progetto prevede anche un centro pilota per sostenere le mamme, quindi solo mettendo gli sforzi delle istituzioni, accanto a quelli delle associazioni è possibile cercare di fronteggiare questa situazione. La povertà alimentare si esprime in vari modi, a volte è malnutrizione, a volte è carenza nutrizionale e quindi questa campagna ci sembra importante esattamente per questo. L'incontro è servito anche per commentare i dati relativi all'allargamento della povertà minorile anche in riferimento al tavolo di coordinamento costituito lo scorso febbraio per coinvolgere istituzioni locali, scuole, pediatri, ASL, organizzazioni del terzo settore ed altri attori sociali ed economici nel piano di contrasto cittadino alla povertà. Questo è lo spirito importante per affrontare questi temi, unità, solidarietà, pubblico e privato insieme, bei messaggi che nella nostra città stanno crescendo e questi messaggi servono anche a far fronte alle mancanze e le lacune di chi dovrebbe aiutarci a livello nazionale che continua a latitare.